Belen Rodriguez, pioggia di critiche dopo quelle foto. Riflettori che restano accesi sulla situazione privata e sentimentale della showgirl e presentatrice argentina che da qualche mese sta vivendo la burrasca in seguito all'allontanamento da Stefano De Martino Nella vita di Belen, infatti, è entrato Elio Lorenzoni, con cui la showgirl sembra avere tutte le intenzioni di proseguire nella frequentazione. Nelle ultime ore gli scatti di coppia sottolineano un'atmosfera più che serena. I fan iniziano ad avere qualche sospetto di troppo Pioggia di critiche cade sulla testa di Belen Rodriguez. La pagina di Gossip continuano a intenzionare la situazione privata che riguarda la showgirl da qualche mese distante da Stefano De Martino Sui motivi che hanno condotto all'allontanamento tra i due ha ancora qualche nebulosa, ma a colpire l'attenzione di molti sarebbe il nuovo capitolo sentimentale della showgirl Pioggia di critiche cade sulla testa di Belen Rodriguez, ma non stavi male? Come ormai è noto Belen ha al suo fianco Elio Lorenzoni. I due appaiono sempre molto affiatati e uniti E questo avviene contemporaneamente a un altro aspetto che ha allarmato i fan di recente, ovvero le condizioni di salute di Belen che giorno dopo giorno è apparsa visibilmente provata La confusione è inevitabile per alcuni che, nel vedere la nuova coppia apparentemente felice e spensierata, non sanno spiegarsi alcuni dettagli inevitabili sulla situazione della showgirl Come sta realmente Belen? Questa è la domameda dei fan Una domameda che per alcuni è emersa spontaneamente di fronte agli ultimi scatti di coppia Rodriguez Lorenzoni condivisi sui social dopo un lungo silenzio social I due hanno trascorso un weekend in montagna all'insegna dell'intimità e del relax Tuonano i fan, ma non stavi male? Sottolinea qualcuno, vorrei fidanzarmi con la tua stessa velocità Inoltre altri fanno notare, troppo presto o ancora, è meglio tuo marito Belen Rodriguez in ogni caso non sembra lasciarsi coinvolgere troppo dalle critiche È probabilmente il motivo che spinge la showgirl a mostrarsi leggermente più serena Potrebbe essere attribuito al tentativo di dimostrare ai fan che pian piano anche dalle più terribili tempeste emotive è possibile riemergere con ancora più energia di prima